Siamo con Max Attil, allora Max, finalmente è arrivato il primo punto, un finale un po' rocambolesco, ma è un Sandrigo che ancora forse spreca un po' troppo. Sì, come dici, finalmente abbiamo arrivato il primo punto, però ovvio abbiamo giocato in casa e volevamo tre punti, però per fare tre punti bisogna anche iniziare la partita come vogliamo e non sbagliare troppo. Ascolta, le occasioni si sono ripetute anche questa sera, bisogna essere un po' più cinici forse sotto porta, però adesso sicuramente il morale è molto più alto per affrontare il Viareggio, mercoledì prima della sosta del Mondiale, un Viareggio neopromosso, però è sicuramente una squadra come tutte da non sottovalutare. Sì, sì, sicuramente, vincere, come dici, abbiamo sbagliato troppo la squadra, bisogna farlo meglio a Viareggio, adesso è la partita prima del Mondiale, quindi sarebbe ottimo tornare a Sandrigo con tre punti. Ascolta, tua seconda stagione in Italia, la prima a Sandrigo, se vuoi fare un saluto a casa in Germania, come ti trovi qua, soprattutto l'accoglienza che hai avuto dei sandricensi? Interesco, però. Ja, hallo a tutti, posso dire che mi sono molto felice, sono benvenuti, trainiamo bene, adesso è solo un po' di punti e fare un po' di raggiungere. In bocca al lupo, grazie Max.